Era il 1985 e Don Giosicento scriveva una delle sue più belle preghierenze. Ci dà anche di quella morte piena da voi, di pace assoluta, di quel silenzio da cui esplode la felicità degli uomini, che da ogni angolo della terra, allora e ancora, canta la gloria del Signore appena nata. È nato per te. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti